E dopo tutte le polemiche che ci sono state ieri per la vicenda degli Ultras, tanto di Milan che di Inter, e di cui adesso nel pomeriggio uscirà un nuovo speciale nell'altro mio canale La Tribuna e il Pallone, oggi ho voluto far sì che il canale rimanesse tra virgolette Vergine, da notizie che non voglio confondano una cosa con l'altra, stasera gioca il Milan Che è la cosa più importante, arriviamo da una prima partita che è stato un flop contro Liverpool dove ci siamo illusi con il vantaggio di Christian Pulisic, di cui adesso parleremo anche di questo grande campione, però alle 21 stasera è un'altra partita e il Milan deve andare per vincere, ed è questa la parola che ci deve unire tutti quanti quest'oggi E quindi se anche tu credi nella vittoria, metti un bel pollicione in su e iniziamo Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon 1 di ottobre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista Innanzitutto voglio ringraziare tutti i messaggi che mi avete mandato per lo stato di salute Non vi preoccupate, è un raffreddore ragazzi, io sono un guerriero, per buttarmi giù ci vuole Ma ce ne vuole, ve lo dico, io sono stato in situazioni peggiori, l'avete visto E anche dall'ospedale quando avevo calcoli e tutto vi facevo anche delle immagini, dei video Quindi a me ce ne vuole, sono una roccia, non sono una fighetta, che sia chiaro Di quelli, c'ho 37 di febbre, oddio, 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 no, 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 qui guerrieri samurai Quindi si affronta con un bel fumento, con tanto acqua calda, con zenzero, miele, limone, rimedi naturali Tomillo e eucalipto, come si dice qua, i vamos Dunque grazie a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, grazie a coloro che restano Grazie agli abbonati, grazie, grazie a tutti coloro che ovviamente Anche gli haters e i trolls che entrano, danno un'occhiata, spiano e se ne vanno Ringrazio anche voi, anche voi avete la buddita dentro di te La devi andare a cercare un po' più a fondo, però ce l'hai, non ti preoccupare Dunque, stasera, Milan, anzi, Bayer-Leverkusen-Milan Il Bayer-Leverkusen arriva da un pareggio in casa del Bayer-Monaco 1-1, una partita davvero intensa, dove si è visto per l'ennesima volta La squadra di Xabi Alonso sul pezzo Una squadra tosta che nella prima partita ha rifilato un ben 4-0 al Feyenoord Sono i campioni in carica della Bundesliga Una squadra imbattuta, a parte contro l'Atalanta Quindi le paroline un po', diciamo, velenose Che ha rilasciato in conferenza stampa, ciao via Alonso, ieri Sul fatto che le squadre italiane sono più difensiviste Che poi ripartono in contropiede Beh, insomma, l'Atalanta ti ha dato una bella ripassata di calcio Nell'ultima finale di Europa League 3-0, quindi attenzione Sul Milan Sul Milan Al di là delle statistiche che oggi cercherò Se posso, di fare una like che non sono riuscito a fare ieri Per impegni personali di lavoro Però avete visto, ho fatto una serie di video Oggi ci saranno altri video, tutto quanto Per l'analisi della conferenza stampa Tanto di Fonseca che di Leao Con, in aggiunta come sempre, curiosità statistiche Della partita che andremo a affrontare questa sera Dove c'è Milan c'è over 2,5 Dicono le statistiche e gli amanti del bet Un Milan che negli ultimi 5 incontri è sempre stato il primo A battere il colpo Per primo Quindi il primo gol E se anche contro il Bayer Dovesse succedere la stessa cosa E quindi Fonseca far sbloccare La sua bella squadra di Diavulette E se andiamo a vedere Da un punto di vista Di Di scommesse Danno super Vincente al Bayer Leverkusen Su 1,60 1,70 Mi sembra Il Milan Il pareggio sui 3,30 3,40 Addirittura la vittoria sui 5 Però sappiamo benissimo che queste sono semplicemente scommesse Poi la realtà è un'altra Il calcio è ben diverso da quello che poi vogliono far vendere anche queste case De apuestas Queste case di scommesse Ma io oggi al di là di questo vorrei soffermarmi su 3 cose più una che è un po' il bonus finale Allora verso questa partita Innanzitutto si ritrovano insieme Morata e Xavi Alonso Hanno vinto praticamente tutto da compagni insieme Nel Real Madrid Infatti sono saliti sul tetto dell'Europa Nella finale di Champions 2013-14 Vinta ai supplementari contro l'Atletico di Madrid Quindi l'eterno rivale della capitale spagnola Dal 2010 quando Alvaro poi ha iniziato a affacciarsi in prima squadra All'estate 2014 quando Xavi ha lasciato la Spagna per andare al Bayern Monaco Loro hanno sempre giocato insieme Hanno conquistato una Liga, due Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna In tutto sono stati insieme in campo 28 volte Questa è una statistica che potete ritrovare ovunque e comunque Poi il segreto Mi piace un articolo scritto da Giampaolo Di Salvo di All Milan Il segreto di questo Milan è l'intelligenza calcistica di Pulisic I numeri dell'americano Io lo dico da tempo che il vero fuoriclasse di questo Milan è Capitan America Living in America Assolutamente È il nostro giugiello Il nostro giugiello è Christian Pulisic E questo grazie al suo genio Un genio calcistico fuori dal comune L'americano ha già siglato 5 gol Non è un centravanti in 7 partite Diventando in questo momento il miglior marcatore del Milan 4 nel campionato italiano Con Parma, Venezia, Inter e Lecce E in Champions il gol l'unico che hanno fatto contro il Liverpool Un giocatore fondamentale per questo Milan Perché c'ha proprio un'intelligenza tattica fuori dal comune I passaggi, la velocità Lo smarcarsi senza palla Il gioco senza palla E come ben sappiamo nel calcio non esiste solo il correre È uno specialista anche nell'arte dei dribbling Ricordiamoci il gol che ha fatto contro l'Inter Serpettina E ciapatela in culo Grandissimo gol del nostro Capitano America Il Milan quindi affronterà il Bayern Con un giocatore che secondo me In questo momento è il più forte del Milan Poi voglio sapere anche in basso da te se sei d'accordo Su questa mia visione Poi c'è stato praticamente un'opinione Paolo Di Canio già lo conosciamo È stato anche due anni nel Milan Ha vinto uno scudetto Con il Milan nel 95-96 Quel Milan show spettacolare Con i Baggio e Savicevic I UEA I Boban Milan di livelli stratosferici Con Capello vinceva un campionato a mani basse proprio Era troppo forte quel Milan Non poteva Cioè nessuno poteva battere quel Milan Ancora in difesa c'era Baresi Tassotti Maldini dove cazzo passa Costa Curta Seba Rossi in porta L'ascensore umano come lo chiamava Pelegati Grandissimo Milan C'era Albertini tra l'altro anche E ha analizzato la situazione proprio dei rossonieri In vista di questo match contro il Bayern Leverkusen E cosa ha detto Dice il momento difficile Allora lo facciamo un po' romanesco Il momento difficile Il momento difficile passato per il Milan A livello di umore sì Ma a livello di equilibri ancora non lo vedo superato Anche se questo nuovo sistema con due attaccanti Che aggrediscono con Vince Hanno giocato tutti bene Però Fonseca ha fatto leva paradossalmente sui nuovi E di solito si fa leva su chi conosce già l'ambiente Ha capito che quelli che sono arrivati Specialmente Morata e Abram Erano arrivati per una nuova vita Ad alti livelli Sono giocatori importanti dal punto di vista caratteriale E questi hanno fatto la differenza E acceso gli altri Sono completamente d'accordo Però ritorno ancora a ciò che ho detto prima Pulisic Secondo me È già uno dei leader del Milan Nonostante la seconda stagione È un leader Però Morata stiamo parlando ragazzi Del capitano della nazionale Vincente dell'europeo Della Spagna Quindi stiamo parlando di un capitano Della più grande nazione di calcio In questo momento in Europa Quindi non è che stiamo parlando di pizza e fichi Uno qualunque E Abram è arrivato con una voglia Che mamma mia È un guerriero in campo Davvero Corre la pelota Che cazzo c'è addosso Sembra che c'è la stimolina Non si ferma mai Grande Abram È stato un grande acquisto Anzi Società Milan Visto che tante volte succedono cose strane in questo canale Che io parlavo da tempo Il Milan deve passare Fonseca 4-4-2 E poi passa questo La stessa cosa che da due anni Tre Dico Allora il calciomercato ragazzi Per favore Fatelo prima che inizi i campionati Se no si sfasano Dall'anno prossimo Ci sarà questa cosa qua Allora Visto che mi ascoltate A casa Milan Allora Prima di gennaio Cerchiamo di stringere con Abram E tenercelo Ci siamo capiti? Non è che aspettiamo la fine E poi magari rischiamo di perderlo Perché con un attaccante del genere È difficile trovarlo Dico Morata È stata veramente la simbiosi perfetta Uno che ti sfonda E l'altro che si apre nei varchi Ragazzi è perfetto Perfetto Temi Abram Perfetto Mi piace di brutto Se Abram L'ho detto mille volte Torna quello di due anni fa Prima dell'infortunio ovviamente Perché poi l'infortunio Ovviamente ha caratterizzato anche Le sue prestazioni Se torna prima dell'infortunio Ragazzi Abbiamo un centravanti Coi fiocchi Davvero Libidine Libidine coi fiocchi Con Morata poi E pulisici di là Leao che si sveglia Adesso si sveglierà Me lo sento Ragazzi abbiamo un attacco atomico Ve lo sto dicendo da questa estate Attacco atomico L'unica pecca Effettivamente E che poi non abbiamo Aspettando Camardigno nostro Che comunque ancora Lei è un giovinote Ancora giovane C'è ancora Manca un attaccante Probabilmente Ma attaccante che sostituisca i due Che sia a livelli Perché Jovic Non ha niente a che vedere Con quel tipo di ruolo Una seconda punta E comunque non dà Le stesse garanzie Tanto dello spagnolo Che dell'inglese Quindi sono d'accordo Comunque sulla visione Di Canio Su Morata e Ebram Per la loro seconda vita Probabilmente l'ultima Grande esperienza In una grande squadra Anche perché Per quanto riguarda Morata Già 31 anni Mentre Ebram 27-28 Se non sbaglio Quindi Poi una curiosità Per concludere Ieri durante Lucchese Milan Futuro Che è terminata 1-1 E grazie al nostro Max Ovviamente Di The Devil's Den Nel canale Per Anzi vi invito ad entrare Andare a ascoltarlo Ovviamente The Devil's Den Il canale Per il Milan Giovanile Insieme a Will An un canale stupendo Da questo punto di vista E tra l'altro Una volta al mese C'è una rubrica con loro Solo per parlare Di Milan Giovanile Bene Ieri è intervenuto Dopo le 10 e mezza Durante la live E ci ha parlato Di questa partita Lucchese-Milan Che si è svolta Per l'ennesima volta In un campo di patate Perché è quello che In campi di Serie C Ci stiamo abituando A vedere Campi di patate Quindi giocare a calcio Li diventa molto Molto difficile Però al di là di questo Che comunque già ieri Per chi vuole Si va a vedere la live Tutto quanto del commento La curiosità È stata che Dopo pochi giorni Che si è sposato Con ormai La fedele compagna Giornalista Ilaria D'Amico Già Luigi Buffon Ieri Era a vedere Lucchese-Milan futuro Uno dice Che cazzo ci fa Questo qua A Lucca È vero che lui È di Carrara Se non sbaglio Credo abbia anche Delle Delle quote Con la Carrarese Se non vado errato Anzi Se c'è qualche Juventino qua Che me lo dica Una presenza ovviamente Inaspettata Anche perché lui Il suo ruolo di capodelegazione Della nazionale italiana O è andato lì Perché Non si capisce Una partita di serie C Lucchese-Milan futuro O magari Ad addocchiare qualcuno Non lo so Cioè però Sicuramente Non è passata inosservata La presenza di Già Luigi Buffon Durante questa partita E quindi Chi lo sa Vedremo poi Con il tempo Detto questo Oggi come avete visto Prima è uscito Un video Nella tribù Nel pallone Mi raccomando Andatevelo a vedere Perché Tutto quello Che sta uscendo Nella tribù Nel pallone Ragazzi Sono notizie Che vanno bene Per tutti i tifosi Perché La tribù Nel pallone È il canale Per ogni tifoso Di ogni squadra Qui la tribù Rossonera Ovviamente Tribù di gente vera Tribù di Milanisti veri Quindi Anche tu Se sei un milanista Vero E credi E sei convinto Che anche stasera Il Milan può fare Risultato Non solo metti Un bel pollicione in su Iscriviti al canale Con campanina attiva Per rimanere sempre Aggiornato e aggiornata Sull'entrata Di ogni mio nuovo video Noi ci rivediamo Oggi uscirà poi Un altro contenuto Sono due contenuti Nel tribù Nel pallone Questo qua E poi Se riesco Vi dico Perché dipende Della giornata Se riesco Faccio una mini live Pre partita Anche magari Con le formazioni ufficiali Bayer Leverkus E Milan Anche perché stasera Ragazzi Le condizioni Che sono Sinceramente Non me la sento Di andare al Milan Club Lì Ho bisogno Di stare un po' Nel mio Anche per Rigenerarmi Perché quando uno È raffreddato E tutto quello Che vuole stare Dopo il lavoro E starsene un po' A casa Tranquillo Chiedo Vicino al mio popi A coccolarmi Il mio cagnolone E poi Ovviamente Sì La live reaction Post Bayer Leverkus E Milan Ci sarà Sicuramente Dunque Ti auguro Un felice Inizio ottobre Un ottobre A tutti A tutti Do un bacio All'amico Un forte abbraccio A tutti gli amici E sempre Forza Milan Ovunque e comunque Ciao Ciao